Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video, sono Bobo Fizz, Gerardo, non volete chiamarmi Fizz oggi vi farò vedere il sabato che ho passato qui a Milano innanzitutto partiamo con delle macchine in via Monte Napoleone quella lì è una bella, non so che marca, questa qui è una Ston Martin bellissima questa qui è una fantastica Porsche, questa è un SUV grandissima, una Jeep dorata questa qui è un Audi sicuramente che è stata ritoccata in qualche modo ma anche quella di prima dorata, poi Dolce Gabbana poi questa statua di Louis Vuitton bellissima e questa Porsche che davanti non è il massimo però da dietro è bellissima poi naturalmente la Urus che è una delle macchine più belle che abbiamo mai visto l'ho vista dal vivo due volte ed è indescrivibile mentre questa qui è la Mustang che non avevo mai visto in vita mia questa qui è una Mercedes che da dietro sembra una Porsche invece davanti sembra una Mercedes ecco il dietro della Mustang di prima poi una Tesla che da dietro è bruttissima infatti vi faccio vedere solo in davanti poi come le Tesla le Ferrari sono moltissime a Milano è molto bella poi questa qui è una Ferrari Spyder molto bella anche questa poi questa qui è una foto mia con una Ferrari dico non mi ricordo la marca e questa qui è una McLaren è fantastica bellissima, dorata super forti, potentissima veramente qualcosa che non ho mai visto in vita mia e questa qui invece è la mia foto al Duomo spero che questo video ragazzi vi sia piaciuto lasciate like, iscrivetevi al canale attivate la campanellina ciao non ho capito questo questo è un calciatore ma va il Lazio sai che è il Lazio se ne sta andando ciao ciao